L'attacco di Confeser Centicomo, le segnalazioni e il chiarimento, botta e risposta sulla vendita di abbigliamento e altri accessori all'interno dei centri commerciali. Da una parte l'associazione di Via Vandelli, che ancora una volta in pochi giorni è scesa in campo al fianco degli ambulanti. Facciamo appello al prefetto, ha detto stamani il presidente Claudio Casartelli, affinché venga rispettato il DPCM e vengano effettuati i controlli nei tanti centri commerciali dove si continuano a vendere abbigliamento e altri accessori vietati dalla normativa. Si tratta, aggiunge, di sleale concorrenza verso i mercati che sono chiusi. Mentre veniva diffuso il comunicato di Confeser Centicomo, in redazione arrivavano anche segnalazioni di cittadini e degli stessi ambulanti, corredate da foto e video, che non più tardi di ieri pomeriggio testimoniavano la possibilità di acquisto di abbigliamento nei centri commerciali. In un caso, ad esempio, è stato inviato lo scontrino insieme con il maglione comprato al Bennett di Olgiatecomasco. E proprio Bennett, a stretto giro, ha chiarito la questione. Ci siamo attenuti scrupolosamente a quanto indicato dal nuovo DPCM entrato in vigore ieri e alla nota di chiarimento inviata da Feder Distribuzione, ha fatto sapere l'azienda attraverso l'ufficio stampa. L'allegato 23 del decreto, al primo punto, parla di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande. Alla luce di tale formulazione e delle conseguenti interpretazioni, viene chiarito, gli ipermercati erano autorizzati a rimanere aperti senza alcuna indicazione di limitazioni merceologiche. Questo fino a ieri. Da questa mattina, fa sapere ancora Bennett, sul sito del Ministero sono stati pubblicati dei chiarimenti. Pertanto da oggi, in tutti i punti vendita della zona rossa, in tutti i giorni della settimana, Bennett aprirà, oltre alla parte alimentare, anche quella non alimentare, ad esclusione dell'abbigliamento e delle calzature uomo e donna, e la teleria, che non rientrano nell'elenco dei beni di prima necessità. Oggi, infatti, i reparti non accessibili erano opportunamente segnalati.